Quando si inizia lo studio dei circuiti in regime sinusoidale, le difficoltà matematiche che si incontrano nei calcoli con i numeri complessi a volte rischiano di creare un ostacolo eccessivo appunto al corretto e fluido avanzamento delle nostre competenze e delle nostre capacità di analisi. Con questa lezione vi vorrei semplicemente suggerire degli strumenti da utilizzare e da esplorare per aiutarvi a superare queste difficoltà matematiche. La matematica non deve essere un ostacolo, deve essere uno strumento e quindi come tale dobbiamo imparare a utilizzarlo al meglio per le nostre esigenze e per ottenere i nostri risultati. Non deve essere a sua volta un ostacolo al raggiungimento di ciò che ci siamo prefissi. Partiamo da alcuni strumenti di calcolo che su un computer, qualunque sia il sistema operativo che utilizzi ATT, possiamo trovare e possiamo utilizzare al meglio per affrontare appunto i calcoli con i numeri complessi. Sto parlando dei fogli di calcolo, quelli che vi propongo sono le versioni gratuite, le versioni che non richiedono l'uso di una licenza a pagamento ma che sono licenziati per un uso non commerciale. Ne approfitto anche per ricordarvi di evitare sempre l'utilizzo di software non ufficiale e non originale. Se il problema dell'acquisto della licenza, l'ostacolo economico non vi consente l'acquisto del software che volete, cercate fra le alternative che vi forniscono una licenza d'uso non a pagamento. Troverete sicuramente strumenti altrettanto validi e che vi consentono di affrontare la gran parte delle situazioni e dei problemi che incontrate. Partiamo quindi ad esempio dall'utilizzo come foglio di calcolo dei fogli che ci mette a disposizione Google, quelli che chiama proprio fogli Google. Un foglio Google come tutti i fogli di calcolo si presenta nella forma classica a righe e colonne e qua noi possiamo andare a scrivere le funzioni per la soluzione dei nostri circuiti, quindi per fare i calcoli con i numeri complessi. Quello che vedete qua è un normale, qualunque foglio vuoto di partenza, io adesso da questo passo a un foglio dove ho già preparato una struttura utile per il caso che vogliamo analizzare. Adesso quello che vedete qua è un foglio appunto già strutturato, c'è una parte iniziale dove noi possiamo andare a scrivere i dati della grandezza sinusoidale dalla quale noi partiamo, che può essere una tensione, una corrente, abbiamo come obiettivo quello di ottenere il fasore della corrispondente, appunto della grandezza sinusoidale che stiamo studiando, espresso in modulo, fase, parte reale, parte immaginarie e quindi con il numero complesso ad esso associato. Quindi partiamo dai dati della sinusoidale, questa parte qua in alto dove appunto con il titolino in giallo, questa è la zona in cui io inserisco i dati. Vedete io qua posso inserire l'ampiezza, ad esempio in questo foglio sto ipotizzando di avere a che fare con una tensione, ma ovviamente l'analogo foglio andrebbe bene per inserire i dati di una corrente, quindi in questa cella inserisco l'ampiezza, quindi il valore massimo raggiunto dalla sinusoide, in questo caso 10 volt, la frequenza della sinusoide, 50 Hz nell'esempio, è la fase della sinusoide, espressa in questo caso in angoli sessagesimali, nell'esempio 45 gradi. In questa parte sottostante, in questa riquadrata in verde, ho riportato alcuni primi calcoli che mi consentono di ricavare delle grandezze utili per descrivere la sinusoide, ad esempio in questa cella calcolo il valore della pulsazione espressa in radianti al secondo. La pulsazione è legata alla frequenza dalla formula 2πf, quindi se andiamo a vedere il dettaglio della formula inserita nella cella dove appunto viene calcolata la pulsazione, vedete che la formula è proprio quella di 2π, la funzione π.gr, aperta e chiusa a tonda, è la funzione del foglio di calcolo che corrisponde al numero π non approssimato o perlomeno approssimato con i limiti dell'approssimazione interna del foglio, quindi molto più preciso di quello che possiamo scrivere noi, ad esempio scrivendo 3,14 che tutti ci ricordiamo, ma potrebbe introdurre, l'uso di un'approssimazione di questo tipo, potrebbe introdurre un livello di approssimazione che nel corso dei calcoli potrebbe risultare eccessivo, quindi conviene utilizzare la funzione interna del foglio π.gr che invece ci dà una rappresentazione molto più accurata del numero π e poi vedete 2π per f, f si trova nella cella B3 e quindi era quella che viene moltiplicata. Passiamo adesso a questa seconda cella dove vedete io eseguo il calcolo della fase esprimendola in radianti piuttosto che in gradi sessagesimali come inseriti, questo perché diciamo per nostra abitudine i gradi sessagesimali probabilmente ci sono molto più familiari per motivi come dire scolastici, ci vengono insegnati in questo modo, quindi gli angoli da 0 a 360 gradi ci sono molto più familiari degli angoli da 0 a 2π radianti, quindi solitamente noi preferiamo pensare in gradi sessagesimali, quindi anche i dati di riferimento della nostra grandezza sinusoidale qua di partenza sono espressi in gradi sessagesimali, 45 gradi, ma può essere importante avere questo valore espresso in radianti anche perché vedremo che i fogli di calcolo nell'eseguire calcoli trigonometrici utilizzano i gradi espressi in radianti, questo anche perché nel sistema di misura internazionale l'unità di misura appunto per gli angoli è il radiante non il grado sessagesimale, quindi è importante saper fare le conversioni nei due sensi da angoli sessagesimali a radianti e viceversa, vediamo come possiamo fare facilmente, come io ho determinato quest'angolo in radianti di 0,785, ovviamente approssimato, qua possiamo giocare con il numero di cifre decimali rappresentate andando ad aumentarle con questa funzione o a diminuirle, è inutile eccedere nella rappresentazione numerica che può essere fastidiosa durante lo studio, avere numeri con un eccessivo numero di decimali, quello che interessa a noi è che la parte che noi vediamo del numero è sempre una parte approssimata in modo corretto, dietro questo numero c'è un numero con un numero di cifre decimali molto più elevato, quello che internamente utilizza il foglio di calcolo, noi invece possiamo limitare quelli che vediamo a quelli che ci sono più comodi e più funzionali mentre lavoriamo. Quindi torniamo alla conversione, vi faccio vedere la formula ingrandendola che utilizzo per la conversione, andiamo a vederla qui, vedete che la formula utilizza la funzione interna pi greco di nuovo per il calcolo, la trasformazione si fa per proporzione, si sa che pi greco sta a 180 gradi come un angolo in radianti sta a un angolo espresso in angoli in gradi sessagesimali, quindi sviluppando la proporzione se io parto da un angolo in gradi sessagesimali per arrivare allo stesso angolo espresso in radianti io devo prendere l'angolo sessagesimale, quello espresso qua dalla cella B4 che è quella dove ho inserito il 45 gradi e lo devo moltiplicare per il rapporto fra pi greco e 180, questa espressione appunto mi trasforma l'angolo in radianti ed è questo 0,785. quest'altra cella qua sotto è come dire è solo una rappresentazione grafica, un giochino diciamo grafico di composizione che mi sono divertito a fare per vedere scritta l'espressione nel tempo della grandezza sinusidale rappresentata da questi dati, per curiosità vi faccio vedere come l'ho ottenuta in modo che se vi incuriosisce possiate riprodurla e vedere un pochettino come è fatta, vado a ingrandire di nuovo questa zona, vediamo se riesco a farla vedere tutto, vedete tutto funziona intorno a una funzione interna del foglio di carcolo di concatenazione, concatena non fa altro che mettere dei pezzi di testo diciamo o di numeri uno appresso all'altro in modo da ottenere il risultato voluto. Adesso qua io vi faccio scorrere la funzione in modo che se vi incuriosisce la potete riprodurre. per calcolare il modulo devo semplicemente calcolare il valore efficace dell'ampiezza della sinusoide, allora annotiamoci la cella nella quale si trova l'ampiezza, vedete colonna b riga 2 quindi la cella b2 contiene l'ampiezza, questo lo memorizzo semplicemente per potervelo far vedere qua quando vado a scrivere, ingrandisco quindi il modulo della funzione, io lo calcolerò prendendo b2, la cella che contiene il modulo cioè l'ampiezza e lo divido per la radice quadrata di 2, radice quadrata di 2 che calcolo con la funzione interna radq, vedete che mentre scrivo mi compare un help che mi aiuta nella selezione, nell'individuare la funzione corretta, radq valore questa è la sintassi della funzione, mi dà un esempio radq di 9 mi restituisce la radice quadrata del numero tra parentesi quindi qua io sto dividendo per la radice quadrata di 2, vedete anche che il foglio mi dà già il risultato suggerito che otterrò e vedo che il risultato è appunto il valore efficace della sinusoide ovviamente in volt, vedete qua rispetto all'unità di misura. Andiamo a calcolare la fase in radianti, questo l'abbiamo già fatto qui quindi qua lo ripeto semplicemente per ricordarvi come effettuare questa conversione, l'angolo di partenza in gradi sessagesimali qua si trova nella cella b4 quindi ricordiamoci questo perché nell'ingrandimento perdo il riferimento quindi qua vado a calcolare e devo semplicemente fare quindi l'angolo sessagesimale b4 vedete il valore 45 mi viene riportato sopra lo devo moltiplicare per pi greco vedete come inizia a scrivere pi punto mi compare il suggerimento se io premo invio automaticamente mi completa la funzione proposta devo chiudere la parentesi perché pi greco è una funzione interna senza però parametri e quindi devo aprire e chiudere la parentesi e devo dividere quello che ho ottenuto per 180 per ottenere il valore in gradi in radianti e siamo arrivati alla determinazione adesso della parte reale e della parte immaginaria parte reale che sappiamo essere uguale al modulo per il coseno della fase e la parte immaginaria che sarà uguale al modulo per il seno della fase quindi andiamo a scrivere le nostre espressioni allora parte reale abbiamo detto essere qua posso usare anche il mouse vado a prendere il modulo che la cella e 2 e lo moltiplico per il coseno vedete anche quale mi aiuta coseno dell'angolo vedete qualche mi dice restituisce il coseno di un angolo specificato in radianti non so se vedete completamente la scritta comunque mi avverte la funzione che l'angolo deve essere espresso in radianti e per questo è necessario effettuare quella conversione che vi dicevo quindi andiamo a prendere l'angolo chiudiamo la parentesi ed ecco la parte reale 5 anche qua per essere corretti dovrei indicare che si tratta di volt e anche nella parte immaginaria il l'unità di misura e il volt andiamo a calcolare la parte immaginaria a questo punto quindi abbiamo il modulo sempre questa volta per il seno sempre dell'angolo radianti preme invio e vedete parte reale e parte immaginaria in questo caso coincidono semplicemente perché l'angolo radianti che io ho scelto l'angolo in gradi che io ho scelto dai 45 gradi quindi sono nella bisettrice del piano di gauss e quindi parte reale parte immaginaria sono uguali ovviamente se io qua adesso vado a cambiare l'angolo da 45 ad esempio a 30 gradi vedete ovviamente calcola cambia il valore anche in radianti e cambiano di conseguenza il valore della parte reale della parte immaginaria calcolata di conseguenza ritorniamo ai 45 gradi dell'esempio e andiamo adesso alla parte più interessante perché qua ancora non abbiamo utilizzato nessuna funzione particolare per i numeri complessi ma abbiamo utilizzato funzioni scientifiche trigonometriche che troviamo anche in una normale calcolatrice scientifica non predisposta per i calcoli complessi il foglio di calcolo invece mi consente anche di lavorare con i numeri complessi si tratta di scoprire quali sono le funzioni che lavorano con i numeri complessi se andate attorno un attimo sul generico foglio di calcolo è andate sulla guida e andate a scoprire l'elenco delle funzioni stiamo parlando dei fogli di google nell'elenco delle funzioni che è una guida online io ho appunto l'elenco di tutte le funzioni che il foglio di calcolo è in grado di utilizzare qua succede una cosa strana ho notato perché se io qua cerco inizio a scrivere complesso per filtrare i risultati quindi soltanto alle parti relativi alle funzioni che lavorano con i numeri complessi mi compagno una serie di funzioni adesso ingrandisco per farvi vedere bene bene ad esempio vedete qua comp punto coniugato questo restituisce il coniugato numero complesso comp punto div dovrebbe fare la divisione comp punto immaginario e così via la cosa strana è che se noi andiamo a provare questi queste funzioni scopriamo perlomeno in questa versione di google oggi durante la realizzazione di questo video scopriremo che quelle funzioni in realtà non vengono riconosciute con quei nomi basta fare una prova se vi ricordate le funzioni iniziavano tutti per comp vedete se io inizio a scrivere com l'unica cosa che viene fuori è questo complex per la creazione di un numero complesso ma se io vado avanti e metto comp punto per cercare le funzioni successive che avevamo visto ad esempio punto div punto coniugato punto eccetera le varie opzioni vedete che l'help mi abbandona e non mi dà più alternative anche se io forzassi il l'uso della della funzione cioè provassi a scrivere a completarla in qualche modo quello che otterrei semplicemente è che la funzione è sconosciuta vedete come come dice qua la funzione sconosciuta quindi c'è qualcosa che non va a qualcuno di voi potrebbe segnalare a google che qualcosa non va vi faccio vedere che eccolo qua comp punto div nel nel nell'help online di google è presente quindi vedete qua la sintasi sarebbe comp punto div dividendo tra parentesi tonte dividendo punto e virgola divisore ma se io vado a fare questo potete provare anche a utilizzare i maiuscoli come le lettere maiuscole come indicato qua ma nulla nulla cambia nel nel nostro caso proviamo con le maiuscole comp vedete che continua 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 a comparire complex come unica alternativa e se io provassi anche comp punto div vedete funzione sconosciuta al di là dei parametri che lei necessita per fare il calcolo però proprio non viene riconosciuta la funzione quindi abbandoniamo questa strada perché non è quella che ci porterà da nessuna parte e andiamo a vedere quello che invece in grado di fare effettivamente il foglio allora prima cosa ci serve creare un numero complesso il numero complesso lo andiamo con la fu con l'unica funzione che nell'help online effettivamente risulta raggiungibile dal nostro foglio di calcolo che è complex andiamo complex funziona sapendo parte reale parte immaginaria quindi andiamo a la parte reale questo 5 la parte immaginaria è contenuta in quest'altra cella quindi andiamo a creare il nostro numero complesso quindi andiamo a creare il nostro numero complesso con la funzione complex vedete che adesso il help funziona quindi viene riconosciuta vedete che chiede una parte reale che andiamo a prendere poi punto e virgola per separare le parti chiede la parte immaginaria che è quest'altra cella e poi l'ultima opzione che non è obbligatoria è facoltativa è il suffiso cioè la lettera da utilizzare per individuare la parte immaginaria di solito i in matematica in elettrotecnica si preferisce utilizzare la lettera j per non confonderci con le correnti ecco vedete che il foglio di calcolo ha creato il nostro numero complesso 5 più 5 j parte reale e parte immaginaria una volta che abbiamo il numero complesso parte reale e parte immaginaria in un'unica entità risulta comodo utilizzare delle funzioni per operare su quel numero complesso ad esempio qua io voglio calcolare il modulo il modulo non sarebbe altro che quello di partenza ma io adesso vi voglio far vedere l'utilizzo delle funzioni che lavorano con i numeri complessi quindi andiamo a grandire la parte che ci interessa andiamo a calcolare il modulo il modulo ho scoperto essere utilizzabile attraverso la funzione che non è comp.modulo come dice la guida ma è im che scopriamo essere l'iniziale diciamo della gran parte delle funzioni che lavorano con i numeri immaginari quindi quando cerchiamo funzioni con i numeri immaginari sui fogli di google iniziamo a scrivere qualcosa che inizia con im vedete im e andiamo avanti e scriviamo a b s eccolo qua abs che sta per absolute in inglese quindi vedete che qua il valore assoluto di un numero complesso questo è la funzione che google il foglio google riconosce semplicemente devo indicargli quale numero complesso quindi questa cella chiudo ed ecco che senza calcoli trigonometrici arrivo al modulo calcolato il modulo posso spostarmi al calcolo dell'argomento per il calcolo dell'argomento la funzione da utilizzare ho scoperto essere im sempre numeri immaginari e in questo caso ci aiuta anche l'iniziale di argomento perché im argument ing im argument vuole sempre un numero complesso quindi il primo che abbiamo la cella è 8 ed ecco che mi restituisce il valore dell'argomento quindi dell'angolo caratteristico del numero complesso che appunto viene chiamato argomento del numero complesso e vedete che lo restituisce in radianti 0 7 8 5 il valore in radianti e se lo voglio in gradi lo sappiamo fare abbiamo visto perché per farlo qua la formula inversa per il passaggio da radianti a gradi e possiamo quindi scrivere la proporzione in questo caso dobbiamo prendere il valore in radianti moltiplicarlo per 180 e dividerlo per pi greco e ritornano i nostri 45 gradi nelle prossime lezioni andremo avanti nei calcoli vi mostrerò altri strumenti alternativi quindi quindi la 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 la